Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, edizione in diretta delle 10, che apriamo con la cronaca, notizie che vi abbiamo già dato in anteprima questa mattina nella nostra rassegna stampa, un nuovo rintraccio di migranti nella nostra regione. Andiamo a vedere il sito udinesetv.it con il nostro touch, come potete vedere la notizia occupa lo spazio del primo piano, 40 irregolari rintracciati nella notte in due distinte operazioni da parte dei carabinieri nella bassa Friulana. Andiamo a vedere nel dettaglio come è avvenuto il rintraccio, sono 40, lo abbiamo già detto, il primo gruppo nei pressi della stazione ferroviaria di Latisana, il secondo vicino al casello autostradale sempre della città riverasca Friulana. In corso il trasporto a bordo di Pullman verso il centro di accoglienza dell'ex casello Macavarzerani di Udine per il triage sanitario e poi il successivo periodo di quarantena. Al momento non sono stati segnalati i minori non accompagnati, 40 nuovi rintracci dopo quelli dei giorni scorsi. Dunque questo conferma che si rischia di tornare di nuovo in piena emergenza, immigrazione clandestina con la rotta balcanica che sta cominciando a riaprirsi. Dunque ci sono sicuramente rischi di nuovi rintracci anche nei prossimi giorni. Adesso ci spostiamo invece sempre con il touchscreen sulla pagina dell'agenzia ANSA per vedere le ottimissime notizie di questa mattina. Intanto l'ANSA pubblica in apertura alcuni dati del monitoraggio con l'Istituto Superiore della Sanità e il Ministero della Salute che hanno rilevato un RT nazionale che è calato in media a 0,72. Rischio basso nelle regioni. L'RT scende ancora, arriva a 0,72 rispetto allo 0,78 della settimana scorsa. In diminuzione anche l'incidenza tra il 21 e il 27 maggio 2021. La media è di 47 casi ogni 100 mila abitanti. La nostra regione è scesa a 18, quindi è tra le regioni con il rischio più basso. Tutte le regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso. Tra queste il fluo di Venezia Giulia passerà in bianco a partire dal 1 giugno. La data esatta la conosceremo soltanto quando il Ministro filmerà l'ordinanza. Dunque nella giornata di oggi potrebbe essere a partire da lunedì oppure da martedì prossimo. In ogni caso la zona bianca è imminente. Qui vediamo di nuovo i dati che l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno iniziato a valutare nel monitoraggio. Questa settimana tutte le province autonome e le regioni sono a rischio basso. Qualcuna potrebbe essere davvero a rischio quasi nullo, perché il rischio zero al momento non esiste ancora. La regione fluo di Venezia Giulia dal 1 giugno passerà in bianco, successivamente il Veneto dal 7 giugno. Quindi tutte buone notizie che arrivano dai dati di monitoraggio della pandemia. Andiamo a vedere questi dati di monitoraggio che invece si riferiscono ai nuovi contagi, che sono sempre di meno rispetto per esempio al dato dei guariti. 4.147 ieri un incremento contenuto. I morti sono purtroppo però ancora tanti. 171 i decessi a livello nazionale. 10.808 le persone guarite, in questo momento ci sono 253.193 positivi in Italia che stanno effettuando la quarantena, oppure chi in ospedale, pochi per fortuna, perché i dati ospedali di Cala non sia quelli dei reparti ordinari e che dei reparti di terapia intensiva. Continuiamo la nostra carrellata e andiamo a vedere i dati della nostra regione, quelli che arrivano dal Friuli Venezia Giulia. Ieri 33 contagi, 3 in più rispetto al giorno precedente, ma sono oscillazioni che poi possono dipendere anche dal numero di tamponi effettuati, tant'è vero che i tamponi effettuati rispetto al giorno precedente sono 845 in più, 7.304 il totale che hanno prodotto questi 33 contagi. In terapia intensiva calano ancora i pazienti ricoverati, meno 2 e siamo ad 8, 41 quelli ricoverati negli altri reparti con 5 persone che sono state evidentemente dimesse. Il totale dei morti continua a essere molto alto, 3.784, ma questo numero purtroppo non diminuirà, si può solo sperare che non aumenti e ieri è aumentato di due unità, 0,59 è il rapporto contagi-tamponi registrato dopo il bilancio di ieri, dunque il dato è molto basso, questo del rapporto tra i nuovi contagi riscontrati con i tamponi effettuati, ricordiamo ieri 7.304 tamponi. Chiudiamo questa nostra carrellata su tutti i dati che arrivano dalle varie fonti con il dato delle vaccinazioni, perché si prosegue adesso abbastanza velocemente, anche se con una differenza di velocità tra regione e regione che tra un po' vedremo, ma sono quasi 33 i milioni di dosi somministrate. Questo vuol dire che 11.206.454 persone hanno ricevuto due dosi e sono completamente coperte per il 18,91% della popolazione e per quanto riguarda invece regione per regione notiamo ancora che il flui di Venezia Giulia è tra quelle che hanno una percentuale più bassa di utilizzo delle dosi ricevute, eccola qui 89,2%, non si riesce ad andare oltre il 90% come invece molte regioni sono riuscite a fare, ne andiamo a vedere anche il Veneto che è una di quelle che ha raggiunto una percentuale di utilizzo più alta, 93,4, 2.692.113 dosi somministrate su 2.881.870 dosi che sono state fornite alla regione amministrata dal governatore Luca Zaglia. Comunque si procede, si va avanti e tra un po' potrebbero essere aperte anche le agende per i trentenni e si spera di recuperare in quella fascia di età in cui la regione non è stata altissima, parliamo dei 50-60 anni, lì che bisogna lavorare per aumentare la percentuale di persone vaccinate nella nostra regione, ma comunque i numeri sono buoni e continuano a crescere. Si è espresso anche il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini per quanto riguarda i vaccini in vacanza, esattamente uno dei temi sui quali fare gioco di squadra ha detto Bonaccini perché dobbiamo valutare la possibilità di far vaccinare in vacanza i cittadini che si recheranno per trascorrere le ferie al di fuori della loro regione, della loro città. Serve prima di tutto uno scambio di informazioni, dice Bonaccini, tra aziende sanitarie e una conseguente compensazione delle dosi perché vanno ovviamente poi compensate le dosi che da una parte vengono utilizzate per cittadini non di quel territorio. Questo è quello che ha detto Stefano Bonaccini in un'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera. Nel frattempo, ha aggiunto, dal 7 giugno in Emilia Romagna partiamo con le vaccinazioni degli operatori del comparto turistico, degli operatori balneari a coloro che lavorano nelle strutture ricettive dalla costa all'Appennino fino alla città di arte. Vogliamo garantire vacanze sicure, ha aggiunto Bonaccini, le discoteche al momento restano chiuse ma il problema non è solo dell'Emilia Romagna ma degli operatori di un intero comparto fermi ormai da mesi. Si fa avanti l'ipotesi, questo non l'ha detto Bonaccini ma commentiamo noi in base a quello che abbiamo letto sui siti e sui giornali, si fa largo l'ipotesi di una apertura però con divieto di ballare. Quindi le discoteche verrebbero aperte soltanto per ascoltare musica, per bere un drink al tavolino con gli amici, al massimo mangiare qualcosa per chi è dotato anche di ristorazione, di possibilità di somministrare i pasti. Potrebbe essere una prima timida apertura nella speranza poi che più avanti, se i dati dovessero continuare a confortare per quanto riguarda la decrescita dell'espansione dell'epidemia, sperando di poter riaprire in piena estate del tutto anche le discoteche. E a proposito di riaperture, uno dei settori che era stato più penalizzato dalle chiusure da quello del wedding, tante le manifestazioni di protesta, di richiamo per sensibilizzare al problema di un settore completamente paralizzato che invece adesso lentamente può ripartire. Ma come riparte il wedding? Anche qui ci sono ancora delle norme da seguire ma intanto ci si può sposare, si può fare anche una piccola festicciola. Lo chiediamo a Francesca Santoro che è in collegamento con noi in diretta. Francesca, buongiorno. Sì, buongiorno Francesco. Con noi Stefania Vismara di Insieme per il Wedding. E la volta buona finalmente per la ripartenza del settore? Sì, finalmente. Insieme per il Wedding, come tutti sappiamo, sapete, la prima cosa che ha sempre chiesto da quando è nata, proprio io come Presidente con i cartelli, è una data certa di ripartenza. Finalmente l'abbiamo. Le modalità sono un pochino confuse, nel senso che ci sono state tantissime dichiarazioni, anche il nostro canale Instagram appunto ha ascoltato tante dichiarazioni di deputati in modo tale da avere fonti governative certe, però sinceramente non c'è ancora nulla di scritto. Lo stiamo chiedendo, adesso noi come associazione abbiamo una bozza di massima del CTS, però non c'è un documento ufficiale che possa essere la guida sia per gli sposi sia per gli operatori. E teoricamente, visto che la data certa è il 15 di giugno, fra 15 giorni potremo sposarci, ma non sappiamo bene come. In linea di massima si potrà comunque fare una festa? Sì, sì, assolutamente sì. Diciamo che le regole di fatto per quanto riguarda il protocollo da seguire, come distanziamento, sono quelle della precedente estate, quindi i tavoli devono avere una vicinanza di due metri, consigliata due metri e mezzo, quindi logicamente il numero delle persone che voi andate a invitare è basato appunto sulla dimensione della location, quindi sicuramente la dimensione della location è vincola il numero delle persone, però non ci sono particolari vincoli, cioè quindi voi in base alla location che avete potete anche ospitare 500 persone. Allora, da questo punto di vista sicuramente i matrimoni si possono fare. Un gap negativo è il fatto del covid pass, nel senso che solo per i matrimoni viene chiesto il covid pass e noi anche come associazione chiediamo per quale motivo, visto che per le feste di scudetto, per gli aerei, per mille altre situazioni non viene richiesto, non capiamo per quale motivo, per i matrimoni invece sì. Ribadiamo, come lo stiamo dicendo da mesi e mesi, che il matrimonio è forse l'evento più tracciabile che esista, nel senso che sappiamo un anno prima chi ci sarà e sicuramente lo possiamo sapere nei 14 giorni successivi. Quindi è sicuramente meno pericoloso rispetto invece a delle situazioni dove io mi trovo a confronto con estranei. Ecco, quindi questa è la prossima lotta. Inoltre, se c'è questo vincolo, il governo deve effettivamente pagare questo pass, questo tampone o quello che serve. Questa è stata anche una dichiarazione fatta da tutti i deputati di tutte le forze politiche presenti in piazza Montecitorio il 26 di maggio. Hanno garantito che effettivamente se rimarrà questo obbligo ci sarà l'impegno da parte del governo di renderlo ovviamente pagato da loro. Altre cose? Tra gli accorgimenti, il buffet, solo monodose, però si potrà ballare, contrariamente a quanto si potrà fare nelle discoteche? Esattamente sì. Allora, in esterno proprio tranquillamente si potrà ballare, ovviamente sempre mantenendo la distanza che tutti noi sappiamo, a parte tra congiunti. In interno sarà un pochino più ridicola, diciamo la cosa, nel senso che devi avere una superficie di tot centimetri e poi sembra, però non ne abbiamo certezza, che ci sia anche questo stop che deve essere fatto ogni tot minuti con arieggiare il locale, eccetera, eccetera, eccetera. Ribadisco che però, fin tanto che non abbiamo delle cose scritte da parte del CTS, sono un pochino delle supposizioni. In linea di massima le regole le abbiamo, sappiamo che i matrimoni si possono fare, sappiamo le dimensioni, insomma, per quanto riguarda i tavoli e quant'altro, sappiamo che c'è questo Covid Pass che è stato sicuramente tolto il Covid Manager, per fortuna, sappiamo la data certa che noi avremmo voluto fosse sicuramente prima, nel senso che noi abbiamo sempre battuto affinché sia dal primo di maggio, perché maggio e giugno sono veramente i due mesi più importanti per il nostro settore e tu sai, come lo sanno molti degli ascoltatori, purtroppo le nostre aziende sono ferme da due anni, grazie anche a questo slittamento ulteriore della data, diciamo, dei matrimoni. Quindi il comparto è in grandissima sofferenza. Attendiamo allora le indicazioni scritte, magari ci risentiamo in quell'occasione. Grazie intanto Stefania Bismara, a te Francesco. Grazie, grazie in bocca al lupo per questa ripartenza, ancora con qualche ostacolo da superare, ma intanto si riparte. Poi speriamo davvero che i dati rimangano buoni, permangano buoni, e che si possa man mano allentare tutte le altre restrizioni. Adesso la cronaca, andiamo a Trieste, dove ieri pomeriggio la polizia di Stato ha denunciato per furto una triestina del 1978, è stata sorpresa da personale di vigilanza, oltre le casse di un supermercato liviale Campi e Lisi, Cormerce e Varia, per un valore di 110 euro non pagate, nascoste in una busta rispetto di altri prodotti regolarmente esibiti in casse e pagati in precedenza. Sempre nel pomeriggio di ieri la volante ha denunciato un cittadino rumeno del 1981, che si è prima rifiutato di fornire le proprie generalità e poi ne ha date delle altre. È giunta alla sala operativa della Questura tramite il 112, il numero unico, alla segnalazione di una persona molesta all'esterno di un supermercato di via Forlanini e giunti sul posto, gli operatori lo hanno trovato disteso a terra, in palese stato dell'alterazione alcolica, motivo per il quale è stato sanzionato amministrativamente difficoltose le fasi della sua identificazione, avvenuta la quale il rumeno è stato poi accompagnato dal personale sanitario del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara per accertamenti. La scorsa notte, infine, poco dopo l'una, una persona ha informato alla Questura che un uomo stava dando calci ad alcune vetture in sosta in via Gambini. Una volante si è recata sul posto e lo ha fermato poco distante in via Conti. In palese è stato di alterazione alcolica, ricostruito l'episodio ed effettuati i riscontri del caso. L'uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha posto resistenza agli operatori. Si tratta di un triestino del 1986 che è stato deferito in stato di libertà alla locale procura della Repubblica ed è stato anche sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa antipandemica. E ancora cronaca, ci spostiamo però in Veneto dove proseguono gli interventi delle fiamme gialle del Comando Provinciale di Treviso in materia di contrasto al lavoro nero e all'abusivismo commerciale con particolare attenzione anche alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Nei giorni scorsi i finanzieri della tenenza di Castelfranco Veneto sono intervenuti congiuntamente al personale della direzione regionale INPS, ispettorato del lavoro, in una azienda tessile di Loria gestita da un cittadino cinese individuato tre dipendenti in nero con nazionali del titolare e rilevando diverse violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e anti-incendio. Le attività ispettive hanno permesso di rilevare che nonostante il formale adempimento degli obblighi previsti dal testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e della normativa anti-incendio, il locale era sprovvisto dei requisiti minimi richiesti. Di fatti erano presenti numerosi cavi elettrici scoperti pendenti sopra le postazioni dei lavoratori e l'unica uscita di emergenza era sbarrata da scarti di produzione e materiali vari. Nel corso degli accertamenti poi le fiamme gialle hanno scoperto all'interno del locale nello scantinato e in particolar modo in un container posto nel piazzale antistante all'edificio circa tre tonnellate di rifiuti speciali, scarti della lavorazione tessile, apparecchiature elettriche ed elettroniche stoccati ovunque anche nei pressi delle postazioni di lavoro dei dipendenti per i quali il titolare della ditta non è stato in grado di esibire alcuna documentazione relativa alla conservazione e al corretto smaltimento. Andiamo adesso ad aprire la pagina sportiva, ci sono tante notizie da commentare, intanto oggi è match day per l'Apple Wild West, gara 3, possibilità di chiudere con Trapani la serie e andare avanti in semifinale senza giocare altre partite, poi c'è da celebrare il Venezia in Serie A dopo 19 anni di assenza, ma soprattutto siamo tutti in attesa di notizie dall'Udinese circa il futuro della panchina bianconiera. Cominciamo proprio da questo argomento con il nostro Lorenzo Pausa collegato in diretta dall'esterno della Dacia Arena. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a te Francesco, un saluto anche a tutti i nostri telespettatori. Come puntualmente accade alla fine di ogni stagione, la prima settimana senza campionato è caratterizzata da un turbinio di voci riguardanti le panchine della Serie A. Alcune di queste sono in fase ancora embrionale, come per esempio quella che accosterebbe il Sassuolo all'ex allenatore bianconero Ulio Velasquez, altre invece hanno preso concretezza con Max Allegri che ritornerà alla Juve. Per quanto riguarda l'Udinese, ancora il club bianconero non ha sciolto le riserve su quella che sarà la guida tecnica della prossima stagione. Sono ancora giorni di confronto tra il tecnico Luca Gotti e i vertici della società. Un'intesa andrà certamente trovata sulla programmazione della prossima rosa. Nel frattempo però ancora si attende, ogni valutazione andrà ponderata con la massima meticolosità. Ovviamente l'Udinese si guarda comunque anche attorno, sono tanti i nomi che sono circolati in questi giorni. Tra questi c'è anche quello di Paolo Zanetti, il tecnico del Venezia, che ieri ha festeggiato la promozione in Serie A in una finale di ritorno veramente molto molto emozionante. I lagunari avevano vinto la gara di andata con il Cittadella in trasferta per 1-0. Gli sarebbe bastato quindi un pareggio per festeggiare appunto la promozione. Nel primo tempo le cose però non si erano messe bene perché il Cittadella era andata in vantaggio al 26esimo con Proia e poi c'è stata l'espulsione di Mazzocchi al 36esimo che ha lasciato il Venezia in 10 uomini. Nel secondo tempo quindi le Cittadella ha provato il tutto per tutto e sembrava poter piazzare il colpo partita, avrebbe dovuto vincere 2-0 per ottenere la promozione. Il Venezia però ha resistito stoicamente e poi nel recupero al 93esimo è arrivata la rete di Boccalon che ha fatto esplodere di gioia anche tutta la tifoseria nero-arancio-verde che si è riversata per le strade, per le calli veneziane nonostante il coprifuoco fosse fissato alle 23. Veramente una grandissima festa anche con i giocatori che si sono tuffati nei canali per una promozione che mancava da 19 anni e quindi ecco che nella prossima stagione l'Udinese potrà vivere un vero e proprio derby con la formazione del Venezia. A te. Grazie, grazie Lorenzo. Dunque giornata importante come dicevamo oggi anche per la APU Old Wild West, una partita quella di Trapani che può permettere ai bianconeri di chiudere la serie sul 3-0 in caso di successo, evitare di essere trascinati alla partita numero 4 e poi valagolatamente anche alla quinta che però si giocherebbe in tal caso al Carnera ma la differenza tra le due squadre si è già vista nelle prime due partite, in casa Udine ha vinto con Trapani sia la prima che la seconda partita, tuttavia c'è da mantenere la guardia alta perché nei play-off tutte giocano sempre tentando di trascinare il più a lungo possibile della serie per chi perde le prime gare e dunque sicuramente Trapani tenterà di rendere dura la vita alla Old Wild West. Vediamo il servizio. Il compito a casa è stato fatto, ora c'è l'esame trasferta a una semifinale da conquistare. Chiuso sul 2-0 il doppio confronto al Carnera con Trapani, la APU Old Wild West tenterà ora di chiudere la pratica nel primo confronto in campo avverso in programma stasera. Vincere subito porterebbe oltre che il passaggio del turno anche qualche giorno di riposo in più in vista dell'ostacolo successivo. In caso contrario la serie invece si allungherebbe con un altro match fuori casa e l'eventuale gara 5 nuovamente a Udine. Per riuscire nell'impresa qualificazione i ragazzi di Boniccioli punteranno sulla difesa arcigna che ha finora sempre permesso loro di tenere i siciliani sotto i 60 punti, ma saranno anche chiamati a una prestazione offensiva più convincente. Se in gara 1 e 2 Trapani è comunque riuscita a non alzare bandiera bianca fino ai minuti finali, molto lo si deve infatti alle cattive percentuali al tiro da parte di bianconeri, tra i quali è mancato l'apporto abituale di Dominic Johnson. Importante sarà rivedere l'americano sui suoi standard, così come un aiuto in più potrà arrivare dal pieno inserimento in gruppo da parte di Fabio Mian. Il goriziano, ingaggiato nel corso dell'ultima finestra di mercato, ha esordito in bianconero in gara 2 togliendosi un po' di ruggine dalle tre settimane di inattività, dopo l'ottima stagione svolta in Serie A con la Vanoli Cremona. Ora può candidarsi a diventare un nuovo valore aggiunto in un reparto esterni che dovrà fare a meno di Andrea Amato ancora per una settimana. Guardando anche gli altri accoppiamenti del tabellone, anche Napoli, Treviglio e Scafati giocheranno le rispettive gare tre forti del 2 a 0 maturato in casa. Il fattore campo finora è stato dunque sfruttato a pieno, ma ora per l'Apu è il momento di provare a sovvertirlo. E adesso spazio al meteo con le previsioni, anzi prima vediamo i programmi di oggi, vediamo le grafiche sui programmi di oggi, poi andiamo sul meteo prima di chiudere il TG, il telegiornale 12 in diretta, il pomeriggio calcio, ma non solo calcio, si parlerà di tutti gli sport che riguardano i nostri atleti, le squadre della nostra regione, ancora telegiornali e poi alle 19.30 la puntata conclusiva del ciclo di questa stagione di Benvenuti al Bargigia con Massimo Campazzo e Paolo Bargigia che faranno il punto con la consueta ironia sulla conclusione del campionato di Serie A 2020-2021. In prima serata, 10 anni di noi, il programma giunto all'ottava puntata del ciclo di 10 puntate previste in cui vi stiamo raccontando le nostre origini a partire dal 2011 fino ad arrivare ai giorni nostri. Oggi si parlerà di eventi, eventi che hanno coinvolto tanti campioni dello sport, non solo del calcio con le interviste sul nostro canale. Da parte mia è tutto, spazio dunque alle previsioni di Trebi Meteo. Ci vediamo a mezzogiorno. Un saluto e ben ritrovati agli amici di Udinese TV, da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì avremo condizioni di tempo bello e soleggiato sul tutto il Friuli Venezia Giulia, con poco da segnalare, solo qualche addensamento nel corso del pomeriggio sui rilievi, ma clima che rimarrà asciutto anche in montagna. Vediamo nel dettaglio il tempo sul Friuli, che appunto sarà bello, soleggiato e asciutto ovunque, con temperature in leggero calo nei valori massimi, comunque attorno ai 22-24 gradi. Per quanto riguarda la Venezia Giulia, anche qui condizioni asciutte, belle e soleggiate per l'intera giornata, da segnalare solo un rinforzo dei venti di Bora nelle primissime ore del giorno, ma con la ventilazione che tenderà ad attenuarsi nella seconda parte della giornata. Con questo è tutto, ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie. Grazie.